missile cruise alleato partito ma se qua io ho disturbatori in casa a sta ora poi mai mai raccontare questo gelo qua c'è sempre silenzio di 10 e mezzo in poi stasera l'unico e mezzo fanno discussione UAB alleato in sorbolo avvio scansione radar UAB in zona pronto al sorbolo richiedo ricognizione aerea qui Jaguar 3-0 confermato pattugliamento UAV iniziato attenzione UAV in rientro forzato per fare rifornimento nemico missile cruise pronto all'azio UAV alleato in sorbolo pensaglio indicato procedere colpo diretto ricarico attacco a grappolo alleato in arrivo nemico ingresso della caverna a la qualcuno l'ho preso non ho trovato quel credo non è che il 2 l'ho preso ma il nastro non lo so bene ah ah questo era vicino si mi hai sparato tu ma sei un coglione mamma mia mamma mia mamma mia ma sei un coglione si è cagato ah ah meno di un minuto porca poco chiudete la battaglia sei un coglione mi hai venuto il zinghiozzo ah porca puttana ma se non lo facciam pure a rainbow che hai capito non ricordo beh idee chiudere 30 secondi tempo scaduto muoversi e penso da noi anche la scena radar personale nemico in volo ha puntato qualcuno se ne vanno con la coda tra le gambe e che cazzo? io ero tranquillo sento un colpo di precisione io volevo continuare a far giocare un'altra però quando vedo questi livelli